della gara Tombolo-Talasso Resort e Gold Cup 18 Bucche Stepple con handicap e 3 categorie. I premi sono stati gentilmente offerti dal Tombolo-Talasso Resort di Marina di Castagneto Garducci. Grazie. Qui rappresentata dal dottor Fabio Garducci. Bravo. Ciao, buonasera a tutti, come al solito grazie a Presidente per l'ospedale a questo nome, all'organizzazione che è sempre sospetta, ai giocatori che quest'anno hanno partecipato in grande numero, anche se qui non si vedono, vedo che c'è anche un giovane qui in attesa, giovanissimo, che deve aver vinto qualcosa da sovristo. Bene, il Tombolo come tutti sapete, ormai penso che sono 15 anni che facciamo questo torneo, è un albergo specializzato nella talasso terapia, che fa benissimo a tutti coloro che hanno acciacchi, da quello che ho reggiato ce ne avete tutti un po' di acciacchi. e quindi no, quindi no, quindi la talasso terapia è proprio specializzata nel sistemare problemi di articolazione, muscoli, tendini, infiammazioni varie, spalle che non girano come dovrebbero, quindi è aperto tutto l'anno, quindi potete approfittare, quando venite a toccare accorto, come dita Dio, oppure dice adesso. Io passerei a fare inizioni. Molto bene. Eh? Bene. Io voglio ringraziare, perché il tuo sponso, ma il successo dell'atlete che partita è molto importante. A tutti gli anni c'è una gran partecipazione. Allora iniziamo con la categoria Signores, classificato primo Fabrizio Pellacci con 39 punti. Bravo! Ma è partito. È partito, è partito. Lo mettiamo da parte. Prima nella categoria Signore Margherita Caetano con 36 punti. la signora. Mi sento a girare in sicuro. Grazie. La foto ricordo. Ok. Nella terza categoria handicap da 25 a 36, secondo netto Camillo Magliucci con 41 punti. Bravo! Bravo! Grazie. Facutto. Perfetto. Perfetto. Terza categoria, Vittorio Maggiore con 42 punti. Bravo! Bravo! Che bravo! Nella seconda categoria handicap da 15 a 24, secondo netto Antonio Boni con 37 punti. E il primo netto di seconda categoria, Alexandra Neri con 38 punti. Nella prima categoria handicap di gioco fino a 14, secondo netto Giovanni Galeotti con 38 punti. Primo netto Lissandro Mazzoni con 38 punti. Non è lui, non è lui. E il primo netto Paolo Negroni con 38 punti. Bravo Paolo. Perfetto.